Il fenomeno sempre crescente del gioco d'azzardo e le insidie correlate alla ludopatia. Sono i problemi che intende fronteggiare l'iniziativa Noslo Day, promossa dalla Regione Calabria, che ha riunito presso la cittadella regionale tutte le associazioni che aderiscono alla campagna Mettiamoci in Gioco. Un'occasione per discutere della legge regionale numero 9 del 2018 che impone linee per disciplinare il gioco d'azzardo. Ogni 30 aprile di ogni anno la Calabria un'ora si fermerà e rifletterà, discuterà, farà il punto sulla situazione, su dove si è arrivato nel contrasto a questa grande piaga, una piaga del terzo millennio. Addirittura si dice che sta ammietendo più vittime della droga, una dipendenza gravissima. Non dimentichiamo che non è soltanto un fattore economico, di soldi spesi, punto e basta. C'è una dipendenza vera e propria, gravi danni alla salute, con tutto quello che ne consegue ovviamente anche sotto il profilo del dramma umano, familiare, oltre ovviamente al, ripeto, al danno all'economia che è un danno gravissimo. Se pensiamo che solo col gioco legale nel 2018 la raccolta è stata di 104 miliardi d'euro e a ciò aggiungiamo tutto ciò che deriva dal gioco illegale, dal gioco illecito e le cose sono fatte. Abbiamo deciso di intervenire come Regione Calabria, abbiamo una normativa più severa d'Italia, una normativa che tende soprattutto a tutelare i giovani, i ragazzi, gli spazi di aggregazione. È una campagna senza quartiere, una lotta senza quartiere. Ovviamente lungi da me dire che c'è uno spirito proibizionista sia nella mia testa ma soprattutto nello spirito della legge. Stiamo discutendo con le associazioni pure di gioco che rappresentano le varie categorie. Se le associazioni dovessero accettare determinate condizioni, sono condizioni dirette a prevenire la dipendenza, non ad impedire il gioco. Allora lì avremo veramente un gioco. Stiamo discutendo e partirà dalla Calabria la richiesta di una convocazione di un tavolo col Ministro della Salute assieme agli altri presidenti. E mi lasci dire che è un bel vedere dalla Calabria. Lo dico con orgoglio, non perché la ritengo la mia legge. Mi ha fatto piacere sentire sia il Presidente della Camera ma sentire il Direttore del Ministero della Giustizia e parlare di legge bova. Quando me ne vado da questo ruolo lascio un bel pensiero e dico ho servito l'istituzione che rappresento nel migliore dei modi.